Rivelato nel club brasiliano Palmeiras, Hendrick è oggi la più grande promessa del calcio brasiliano. Considerato il nuovo Neymar o addirittura il nuovo Ronaldo fenomeno, Hendrick ha avuto grande successo nel calcio brasiliano e presto è stato acquistato dal Real Madrid, che è rimasto affascinato dal giovane talento. Tuttavia, avendo grandi giocatori come Mbappé e Vinicius Junior, Hendrick, in questo inizio di stagione, non ha trovato molto spazio sotto la guida di Ancelotti. Un trasferimento è la soluzione che il Real Madrid cerca per Hendrick e tra i club interessati c'è la Juventus. Sì, la Juventus vorrebbe avere il giovane brasiliano in prestito per una stagione. Oltre alla Juve, anche il Real Valladolid e il Tottenham hanno dimostrato interesse. Hendrick è un eccellente attaccante e, nonostante le poche opportunità, ogni volta che è sceso in campo con il Real Madrid ha dimostrato molta qualità. Sarebbe un buon accordo, secondo me. Tuttavia, forse il Real Madrid, per precauzione, preferirebbe cederlo in prestito al Real Valladolid, che è un club di minore importanza.